Di questa video lezione si occupa, tratterà insomma il tema dell'architettura nel rinascimento e in particolare l'opera di Alberti, Bravante e Palladio che sono stati tre tra i principali architetti del rinascimento. In generale dire architetti è un po' riduttivo per questi artisti perché come abbiamo già visto l'artista nel rinascimento diventa un intellettuale a tutto tondo. Diciamo che possiamo qualificarli come architetti perché la maggior parte delle opere da loro realizzate verteva su architettura, anche se Alberti ad esempio scriverà un libro molto importante, Bravante sarà anche pittore, Palladio in generale invece si occuperà molto di architettura. Non vedremo chiaramente tutte le loro opere, specialmente Palladio purtroppo la produzione è grande, è vasta, realizza anche delle chiese bellissime come la del Redentore a Venezia, insomma non le riusciremo a vedere, vedremo solo due opere, due delle principali opere, evitando di allungarci troppo. Diciamo qui vi ho riassunto un po' quella che sarà il mood di questa videolezione, ma comunque tenete presente che i fili conduttori che collegano questi tre artisti sono sicuramente, partiremo sicuramente dal rapporto, quel rapporto che vi dicevo nel rinascimento tra umano e Dio, è vero che il 400-500, il sovrinascimento viene chiamato umanissimo e per certi versi uno può pensare che sia profano perché è l'esaltazione dell'uomo, ma in realtà come avevo detto io a lezione in arte, questo rapporto tra uomo e Dio cerca di prendere proprio forma attraverso l'utilizzo di determinate geometrie, determinate forme che cercano di avvicinare l'umano a Dio, d'altronde, come l'ho detto anche a lezione, l'uomo è fatto proprio ad immagine e somiglianza di Dio, e quindi questo è il primo filo conduttore. Il secondo filo conduttore è il richiamo e lo studio dell'architettura antica, sicuramente quella romana ma anche quella greca e vedremo come e dove. Il terzo e ultimo è quello della ricerca di proporzioni per così dire perfette, che rendono queste architetture, questi esempi architettonici quasi elementi musicali che hanno un'armonia, che appunto è un'armonia che può essere tradotta anche in termini proprio musicali. Non faremo una lezione su questo, almeno per il momento, però insomma tenete presente che il ritmo con il quale vengono scanditi gli elementi architettonici, la successione degli elementi architettonici possiede un ritmo che si avvicina molto all'idea proprio di musica, di realizzazione di spartiti musicali. Queste sono alcune immagini da uno dei libri che ho sul Rinascimento, si intitola in particolare Principi architettonici nell'età dell'umanesimo, appunto, e rappresentano un po' quell'idea che vi dicevo prima di umanizzazione del divino o viceversa divinizzazione dell'uomo, l'essere umano che può essere inserito all'interno di un quadrato o di un cerchio. Questo non è l'uomo vitruviano di Leonardo, è uno dei primi esempi, Leonardo lo perfezionerà. L'idea che le chiese possano essere le piante delle chiese, io vi invito sempre a ragionare, a notare che gli elementi che li compongono sono il quadrato e il cerchio, quindi l'idea che il corpo umano possa diventare lo strumento per misurare, lo strumento principe per misurare e dimensionare gli elementi che andranno a costituire la pianta di una chiesa, che è l'edificio in assoluto più sacro che possa costruirsi. E anche l'idea di dimensionare anche gli elementi architettonici più di dettaglio come i capitelli delle colonne, secondo le proporzioni del volto umano. Questa è un'idea, l'idea che l'uomo e le colonne possano essere simili, ve lo dico, è già presente nell'architettura greca, le prime kuroi o kurai greche, le statue greche nella Grecia arcaica, erano ispirate proprio alle colonne, quindi avevano una forma molto ispirata, molto simile a quella delle colonne. Il primo artista è Alberti, anche cronologicamente parlando, anche perché Leon Battista Alberti è un artista che ha a cavallo del Quattrocento, nella prima e seconda metà del Quattrocento, Bramante in realtà conclude il Quattrocento e inaugura il Cinquecento, mentre Palladio, ve lo dico, sta scritto anche lì, sarà proprio un artista del Cinquecento, quello maturo, insomma a cavallo tra la seconda metà sicuramente e una parte della prima metà del Cinquecento, quindi vedremo un po' come evolve anche lo stile. Questa facciata noi abbiamo imparato anche a disegnarla, perché la stiamo disegnando, l'abbiamo realizzata e l'abbiamo anche vista, oggi la vediamo con un po' più di dettaglio. Vi volevo far vedere, l'ispirazione è il Pantheon, una delle prime ispirazioni è sicuramente il Pantheon, specialmente per la parte del frontone del Pantheon, che viene ripreso nella parte del piano superiore e sicuramente nella parte superiore dell'edificio, della facciata, dove poi lui inserisce queste quattro colonne che inquadrano il rosone centrale. È un intervento che viene fatto su una chiesa che già esiste ed è una chiesa medievale, fatta da Arnolfo da Cambio, se non ricordo male, e lo notiamo dal fatto che sono presenti nella parte basamentale delle nicchie con degli archi ogivali, appunto medievali. L'intervento che fa l'Alberti, oltre ad inserire questo elemento superiore a capanna, ispirato al Pantheon, che viene raccordato dalle volute che non ho messo in questa foto, ma le conosciamo, è l'inserimento di questa serie di colonne e archi, con questi motivi che riprendono, ma in un certo senso si distaccano anche dalla tradizione medievale, che era quella di alternare fasce orizzontali colorate, quindi riprendono nei colori ma non nei motivi, l'architettura, gli elementi già preesistenti di questa facciata. L'arco chiaramente è a tutto sesto ed è tipico proprio del Rinascimento e inserisce qui all'interno un arco trionfale, questo sarà una sorta di arco di trionfo, questo è un tema che Alberti curerà, vedremo anche nelle chiese successive, e inserirà poi queste quattro colonne su corinzie, su piedistalli, queste sono proprio tipiche dell'architettura romana, la colonna su piedistalli è proprio tipica dell'architettura romana, quindi quello che fa è un rispetto della preesistenza, non la nega, perché noi la vediamo, è perfettamente visibile, ci dialoga, cerca un dialogo, quindi non c'è tutto questo, come dire, rinnegare il medioevo per gli artisti rinascimentali, proprio perché non c'era quella concezione di tempo, c'era una preesistenza e lui ci stava dialogando, un po' come fa anche Brunelleschi quando realizza la cupola di Santa Maria del Fiore, e l'abbiamo visto nella lezione precedente. Vi apro quest'altra immagine con questa medaglia, questa era una medaglia, perché l'opera successiva è il Tempio Malatestiano di Rimini, che è ispirato palesemente al Panteon, questa è una medaglia fatta da uno dei suoi collaboratori, in realtà la chiesa non viene mai finita, rimane sempre incompleta, però qua possiamo vedere quella che era l'idea di Leon Battista Alberti, cioè quella di ispirarsi al Panteon, vediamo che nelle geometrie è molto simile alla chiesa, alla facciata di Santa Maria Novella, e anche questa è una chiesa che, ed è questa fondamentalmente, il Tempio Malatestiano di Rimini è questo, quello che vedete in quella medaglia è questo edificio qui che non è mai stato completato, è un involucro fondamentalmente, e tenete bene a mente quest'idea di involucro, perché per un altro edificio, e lo vedremo in seguito. È una chiesa medievale anche questa, di Francescani, la vediamo qui inserita, dove Palladio, l'idea sua appunto era quella di realizzare questo involucro con queste tre arcate in facciata, anche qua riprende questo tema dell'arco di trionfo, queste quattro colonne, credo siano corinzi, anche queste non le vedo da vicino, no, sono ioniche, e questi elementi di raccordo a capanna, che riprendevano ovviamente la capanna iniziale, sormontati da una zona qui centrale, più o meno simile a quella che aveva realizzato a Santa Maria Novella, e sormontati qui dietro da una grande cupola. Questo progetto non riuscirà, vi voglio far notare anche il fatto che un aspetto che avevamo detto dell'architettura romanica, che diciamo l'esterno era immediatamente visibile, cioè l'articolazione interna era immediatamente visibile anche dall'interno, è ripreso molto da Leon Battista Alberti, anche qui noi vediamo queste arcate, questi archi a tutto sesto, che danno l'idea appunto della suddivisione interna, in realtà la chiesa all'interno non ha tre navate, però insomma si tende a voler far vedere anche quella che è la struttura interna, qui però possiamo vedere questa successione di nicchie che in realtà riprende l'interno. L'altro elemento che riprende l'architettura romana è l'architettura su piedistallo, i templi romani, l'architettura romana veniva realizzata su piedistallo, era sollevata da terra, non era come quella greca con delle gradinate sulle quali poi partivano le basi delle colonne, l'architettura romana era su piedistallo e Palladio la riprende a pieno in quest'opera. Questo è un altro palazzo, questa volta civile, realizzato sempre da Leon Battista Alberti ed è il famoso palazzo Ruccellai, lo trovate a Firenze, se venite a Roma e fate un giro a Viale Giulio Cesare e guardate il palazzo del Tribunale di Viale Giulio Cesare realizzato sul finire dell'Ottocento è praticamente la copia nella fine dell'Ottocento di questo palazzo, ha queste finestre, ha questa bugnatura. Qui possiamo vedere quella successione di stili, il tuscanico, lo ionico e il corinzio che è presente nel Colosseo, quindi ricordatevela bene. Un altro aspetto principale per farvi capire questo amore anche per i classici è la parte del basamento, la vedete qui a terra, dove Leon Battista Alberti prevede un disegno che riprende l'opus romano, reticulatum romano, mentre la bugnatura, che sono praticamente questa serie di mattoncini qui infilati, sono ripresi da una tecnica toscana di bugnatura che Alberti riprende ma realizza in una maniera reinventa in un certo senso, realizzando questa serie di elementi molto sottili, molto delicati che vanno a costituire una pelle proprio dell'edificio, che viene quasi scandito ma in una maniera molto delicata, molto sottile. L'ispirazione per l'Alberti è quest'altro palazzo, Medici Ricciardi, notare le finestre molto simili, l'arco sopra le finestre molto simile, la bugnatura almeno per la parte del basamento molto differente rispetto al sopra, piano piano come vedete anche quest'idea che man mano che si sale verso l'alto l'architettura deve diventare più eterea, quindi o più nobile, più pulita, così come avviene con gli ordini architettonici, il toscanico che è più greve e piano piano si sale e si arriva al corinzio che è il più nobile. Questo palazzo realizzato da Michelozzo, che è un altro architetto toscano, è il palazzo Medici Ricciardi, l'idea di questo edificio è farlo sembrare una fortezza dall'esterno e un palazzo civico all'interno, completamente permeabile, attraversabile e visitabile anche dalla cittadinanza, guardate le finestre come sono uguali, anche qui vedete la bugnatura molto delicata che viene ripresa all'interno di questo edificio, questo è un edificio che farà scuola anche Bramante, lo studierà per il suo famoso chiostro, quello del Bramante, non lo vedremo, ma sappiate che esiste un chiostro del Bramante ed è a Roma, ci fanno spesso molte mostre, tra cui l'ultima che c'era era Banksy. E qui vi faccio vedere un'altra immagine completa di Palazzo Rucellai, come potete vedere la similitudine è molto pronunciata e questa bugnatura così delicata che segna i vari elementi, segna le varie componenti della facciata, ma rimane molto leggera, molto appena visibile, riprende un tipo di bugnatura toscana del medioevo, quindi anche qua il rapporto alla reinvenzione del classico. Passiamo all'ultima opera dell'Alberti, questi sono i due elementi romani a cui Alberti si ispira, questa è la basilica di Massenzio e questo è l'arco di Traiano che si trova ad Ancona, questo arco qui così come lo vedete praticamente lo schiaffa sulla facciata, adesso vi faccio vedere la facciata, mentre questi elementi qui delle arcate della basilica di Massenzio le riprende per quello che riguarda la volta a botte e le volte interne delle cappelle. Questo all'esterno come potete vedere un arco di trionfo con quattro colonne, queste sono delle paraste credo immagino che siano portanti, non sono le sene strutturali, sono solo decorative, che riprendono diciamo il tema dell'arco di trionfo di Traiano, sopra di essa c'è un tetto a capanna simile chiaramente a quello del Pantheon e questa chiesa in realtà lascia proprio intendere quello che sarà poi l'interno, perché la navata centrale con volta a botte è espressa all'esterno e prosegue all'interno, l'idea era proprio cercare di dare una continuità tra interno ed esterno. Vi ho messo anche la pianta che è a croce latina, ma in realtà è basata sul modulo anche qui del quadrato, quindi ci sono tre quadrati che compongono, anzi quattro quadrati che compongono la navata centrale fino all'ampsite, due quadrati qui di lato e le cappelle che sono composte qui laterali da un'altra serie di quadrati, che sono gli stessi tra l'altro più o meno in dimensione del portico esterno. Il rapporto con il traquadrato e cerchio è l'elemento cardine ed è quel filo conduttore che vi dicevo all'inizio, di rapporto tra divino e umano. Questo è l'interno, come vi ho detto dall'esterno noi proseguiamo verso l'interno e abbiamo questa continuità con questa volta a botte che stabilisce anche qua un elemento di continuità tra un lato e l'altro dell'edificio e le cappelle laterali che sono intervallate da elementi invece pieni, quindi si crea questa successione di pieni e vuoti dove le cappelle laterali sono trattate però nella stessa maniera quindi con una volta a botte. Il centro chiaramente, l'incrocio della navata centrale e del transetto è caratterizzato invece da una cupola, non la vediamo ma sapete che c'è insomma e qui termina con l'abside, quindi quest'idea di pieno, vuoto, armonico che viene ripresa dall'esterno, sono tutti elementi che vengono utilizzati proprio per dare un senso di continuità della chiesa che esce all'esterno della città e entra all'interno e tenete presente che questa chiesa è stata commissionata dal signore di Rimini, Gonzaga e vuole riflettere proprio l'importanza, quest'idea di far uscire la chiesa all'esterno, è proprio un'idea di richiamare il popolo, la popolazione e al tempo stesso quindi avvicinare la popolazione al divino e al tempo stesso avvicinare il signore di Rimini al divino perché il signore di Rimini sta pagando questa chiesa e qua capiamo questi rapporti di avvicinamento, questo tentativo di divinizzare l'uomo, di cercare di avvicinarlo il più possibile a Dio, creare un modello tale per cui, a cui ispirarsi per migliorare tutta la città e con essa l'architettura e con essa le persone, con essa la pittura, la scultura e via dicendo, ok? Questo è il cuore del rinascimento. Da qui passiamo a Bramante, ci spostiamo di una cinquantina d'anni in avanti, Bramante inizia la sua avventura nel mondo dell'architettura a Milano, questa è una chiesa, si chiama Santa Maria presso San Satiro e io vi voglio portare all'attenzione questo elemento in particolare che è l'abside, che in realtà non esiste perché l'abside è questo elemento che vediamo qui subito dietro l'altare, stretto, angusto, che ne è chiamato a fare una miglioria e quale esperimento migliore per provare le tecniche prodigiose della prospettiva e questo è il risultato. Lui inventa una finta prospettiva su questa abside tale per cui sembri più profonda di quello che in realtà è, ve lo faccio rivedere, questa è la profondità vera, reale, quindi pochi centimetri, una trentina di centimetri non di più, questa è l'impressione che si ha di profondità dell'abside dall'interno della chiesa, tramite cosa un gioco prospettico che è quello che stiamo cercando di disegnare anche noi con quell'edificio, quella sorta di museo, anche se in realtà non abbiamo una volta a botte, ma il senso è lo stesso. Notare anche questa idea di volta a botte è la stessa che abbiamo visto nei dipinti e nelle pitture che abbiamo visto l'altra volta di Masaccio, chiaramente, il tema architettonico è più o meno lo stesso. Procedo con l'edificio simbolico più importante, se qualcuno di voi si trova nei pressi del Gianicolo questo edificio è lì, Tempietto di San Pietro in Montorio, ve lo faccio vedere così, vi faccio vedere dei dettagli perché sono dettagli che poi fanno la differenza. L'ordine qui alla base, le colonne qui alla base sono di ordine tuscanico, il freggio superiore è in ordine dorico, appartenente all'ordine dorico, lo riconosciamo dal fatto che ci sono le cosiddette metope e i triglifi che fanno parte di quello che è il freggio che si trova al di sopra dell'architrave nei templi dorici in stile dorico. La parte superiore invece, fondamentalmente è un alternarsi di nicchie, che funge da tamburo per la cupola superiore, nemmeno a dirvi che l'idea chiaramente in parte è mutuata dal Pantheon, un po' perché è un edificio a pianta centrale circolare, è un po' per l'idea di questa cupola. Faccio vedere lo schema iniziale, così più chiaro, notate come le nicchie corrispondono alle nicchie, guardate la corrispondenza che c'è tra le nicchie inferiori e superiori, come tutto è ragionato, tutto è proporzionato e guardate anche gli elementi a cui si è ispirato, questa è la Tholos di Atene a Delphi, che era un edificio un po' particolare perché era un edificio circolare, le Tholos erano delle tombe, all'esterno era dorica e per l'appunto noi vediamo il freggio dorico composto da metope e triglifi, questa è una colonna dorica, lui utilizzerà il tuscanico, l'interno era composto da colonne corinzie, le colonne corinzie per la prima volta nella storia stabiliscono la tredimensione perché ci si può girare intorno, la colonna dorica e quella ionica non è possibile, sono bidimensionali, si guardano soltanto frontalmente o posteriormente, ma mai lateralmente, lateralmente è un lato, la colonna corinzia invece permette di girare a 360 gradi intorno ed erano posto all'interno, i greci non badavano molto alle colonne corinzie, i romani faranno invece grande uso di quest'ordine. Queste sono le proporzioni che vi dicevo del Tempio di San Pietro in Montorio, vedete come è tutto studiato, è tutto proporzionato, questa idea di cerchio, il cerchio è una figura perfetta, rappresenta il divino e quindi io attraverso queste geometrie, queste forme cerco di avvicinare l'architettura al divino, cerco di divinizzare l'opera umana, cerco di avvicinare l'uomo a Dio, cerco di ridurre quella distanza, quindi l'infinitamente vicino e l'infinitamente lontano che per un attimo forse si toccano, come nel dipinto di Michelangelo la creazione di Adamo, nel dipinto scusate, nell'affresco, poi lo vedremo, lo studieremo Michelangelo, ma insomma come nell'affresco di Michelangelo la creazione di Adamo, l'infinitamente lontano la mano di Dio e la mano di Adamo che non si toccano per un centimetro, quello è il rinascimento, quella distanza lì. Arriviamo a Palladio, Palladio è un architetto che lavora principalmente in Veneto, tra Venezia, Vicenza, nella campagna vicentina, quindi se vi capita di andare da quelle parti, insomma vi fate un bel giro, vi guardate Palladio, è un grandissimo architetto della fine del Cinquecento, stiamo qui, è il rinascimento maturo, l'immagine è un po' sgranata, però fa capire l'interesse di quella che è la cosiddetta Basilica Palladiana o Basilica di Vicenza, insomma che non ha nulla a che fare con una chiesa, perché come ho detto, come abbiamo visto, le basiliche inizialmente erano edifici pubblici, dove l'imperatore gestiva le faccende dell'impero, incontrava personalità, quindi non avevano nulla a che fare con la chiesa, le chiese diventano basiliche durante il periodo paleocristiano e quando la religione cristiana si afferma quale religione di stato, l'abbiamo visto all'inizio dell'anno questo aspetto. Faccio vedere, questa è una spaccata sonometrica, ma per farvi capire che anche qui l'idea di Palladio è quella di creare un involucro intorno all'edificio principale, che è questo che vediamo uscire fuori, svettare, tra l'altro ha un mattonato bellissimo, non ve l'ho messa una foto del dettaglio ma è molto particolare, che è un edificio medievale, intorno al 1100-1200 veniva costruito e serve per le assemblee della città, non ha nulla a che fare con la religione, si chiama basilica ma non ha nulla a che fare con le basiliche cristiane. Quello che costruisce Palladio è un involucro in marmo su due piani, anche qua il piano basamentale è realizzato in ordine tuscanico, con il freggio invece che diventa in ordine dorico, mentre al piano superiore abbiamo un ordine ionico. La caratteristica principale di questo edificio è l'alternanza di colonne singole a elementi che vengono chiamati serliane, voi sul vostro libro avete proprio uno schema ben fatto di quello che è la serliana. La serliana altro non è che l'unione di due colonne, quindi le vedete affiancate una all'altra alla base, un architrave spezzato che diventa poi un arco e torna a essere un architrave spezzato, sormontato da due elementi, due bucature circolari, la parte alta degli angoli, questa è la serliana. Sul libro ce l'avete ben fatto come schema e c'è questa alternanza che appunto determina un ritmo poi anche molto leggero, dà un'idea anche di leggerezza a questa struttura che però è molto imponente. Il capolavoro però di Palladio in realtà in generale ne fa tanti di capolavori, però diciamo quello per cui proprio è famosissimo e imitato in tutto il mondo, specialmente in America, specialmente nel periodo del neoclassico, è questa villa qua detta la Rotonda, si trova nella campagna vicentina ed è una villa anch'essa ispirata alla pianta centrale, vi faccio vedere, vedete anche qua il cerchio, il quadrato, il quadrato di nuovo che si ripete, questo modulo quadrato all'interno del quale posso iscrivere un cerchio e chiaramente l'altro elemento di riferimento è il pantheon, lo vediamo qui dalla cupola, lo vediamo qui da una delle quattro facciate, il portico qui, è fondamentalmente un edificio molto semplice perché la pianta è fondamentalmente un quadrato all'interno del quale abbiamo un elemento circolare, ci sono altri elementi poi distributivi perché Palladio poi aveva anche particolare cura delle esposizioni, del sole affinché potesse entrare la luce del sole, quindi un'attenzione anche nei confronti di chi abita questi spazi, chiaramente è molto importante, ma il tema principale chiaramente è questa ricerca del modulo del cerchio quadrato della pianta centrale del divino che cerca di entrare all'interno dell'architettura o cerca di essere rappresentato attraverso l'architettura. Tenete presente che la prima pianta di San Pietro, una delle prime piante della Basile di San Pietro, quella che vediamo oggi, prima che intervenisse Michelangelo, la fa Bramante e la basa proprio sul quadrato e non è molto dissimile da quest'idea qui, ok ragazzi? Non è molto dissimile da quest'idea della rotonda e vi faccio vedere come appunto ci sono queste similitudini tra la rotonda di Palladio con questi portici in ordine, con un ordine ionico in realtà, non corinzio chiaramente, però è il portico del Pantheon, ok? Il richiamo è immediato e vi faccio vedere anche la cupola centrale, dove qui chiaramente c'è la lanterna, non c'è il foro che troviamo nel Pantheon e la cupola del Pantheon è fatta in maniera leggermente diversa, sono i si detti lacunari, erano degli elementi quadrati, strutturali, studiati apposta dai romani per realizzare tutta la calotta, è stata un'opera molto complessa la realizzazione della cupola del Pantheon. Con questo abbiamo concluso, come vi ricordo i tre fili conduttori sono stati per l'appunto, quest'idea di centralità della pianta che richiama l'uomo e il divino, sia l'uomo che il divino possono essere rappresentate all'interno di questo cerchio e come gli architetti abbiano cercato proprio di sviluppare i loro progetti a partire da queste due forme, il cerchio e il quadrato, che sono forme perfette. Il rapporto con l'antico e lo studio delle architetture antiche, qui terminiamo con Palladio che fondamentalmente ripropone o si ispira palesemente al Pantheon, il rapporto con l'antico anche nell'idea di rapportarsi proprio con edifici che già esistevano, quindi non c'è una negazione necessariamente dell'antico ma neanche di ciò che era medievale, ma c'è una ricerca di dialogo con ciò che viene prima di noi per portarlo a quello che è il nostro tempo, o il loro tempo in realtà chiaramente il loro tempo, e infine anche un'idea di proporzioni, uno studio prospettico chiaramente l'abbiamo visto con Bramante. Questi sono gli elementi salienti. Spero che vi sia piaciuta questa lezione, non ci sono scritte e questo è voluto, così siete costretti a sentire il video. Un abbraccio e un buono studio.